Mara Sant'Angelo e l'Abruzzo, non è soltanto un amore culinario, questo è tennis. Però c'è un grande amore perché io sono veramente molto vicina a questa regione, sono stata qui tantissime volte, ho fatto tutte le province, prevalentemente grazie a un invito del presidente regionale Luciano Ginestra, il mio amico consigliere nell'ultimo quadriennio Emilio Sodano, a portare il progetto di due aziende che oggi rappresento, che sono la Bosch e la Runstad. Mi hanno dato l'opportunità di conoscere tante realtà, di visitare i circoli tennis, di stare in mezzo ai ragazzi, di portare la mia esperienza, la mia storia di tennista, cercando di aiutare i giovani e di dare loro spunti che possano far riflettere anche su quello che sarà il loro futuro. Com'è andata qui all'Aquila, anche sul campo da tennis dico? Una grande festa, siamo alla festa dell'Abruzzo, sono stata sul campo da tennis con i più piccolini e anche con i più grandi, tantissima gente alle premiazioni, è stata sempre un'emozione ritornare qui soprattutto perché è una terra sofferente, l'Aquila ha un forte significato e in questa sala oggi ho visto anche qualche occhio che brillava, qualche persona che ahimè ha perso durante il terremoto, familiari, persone care, e quindi sono particolarmente vicina a queste persone.